Rispondere alle domande delle persone e avviare iniziative che rendano nuovamente visibile il valore straordinario del matrimonio e rendano possibile un nuovo inizio pieno di speranza. È una frase simbolo ma di fatto una colonna portante del documento programmatico del sinodo diocesano. Ormai non si può parlare più di famiglia tradizionale ma ce ne sono diverse di forme e si auspica, se io potessi usare una parola chiave direi che la parola chiave di questo documento è accoglienza. Si auspica che la chiesa si apra con un atteggiamento di profonda misericordia, non dobbiamo dimenticare che il Papa ha appena indetto l'anno della misericordia, verso tutte quelle forme di famiglia che pur non rispecchiando la famiglia tradizionale della chiesa cercano un superamento del disagio avuto da magari una separazione o un divorzio e con tutto il cuore cercano di essere parte della chiesa cattolica. Matrimonio e famiglia sono due temi delicati trattati dal sinodo legati a filo doppio con il ruolo dei giovani nella chiesa, poiché bambini e ragazzi, come ha ricordato Papa Francesco, sono costruttori e protagonisti della chiesa. Realisticamente se guardiamo le nostre chiese di giovani se ne vedono pochi e se la chiesa aspetta che vengano allora aspetterà un bel pezzo. Il titolo del documento, il titolo esatto è come fa la chiesa ad avvicinarsi ai giovani e non i giovani ad avvicinarsi alla chiesa, perché secondo noi la parte attiva la dobbiamo fare noi, che abbiamo a cuore il futuro ma anche il presente. Grazie Grazie Grazie